Il Comune di Noceto ha ospitato la giornata definitiva del campionato di quarta categoria delle regioni Veneto ed Emilia Romagna, in rappresentanza dell'amministrazione comunale il consigliere Silvano Buonasera, che tra l'altro ricordiamo anche per il suo impegno nel mondo del calcio con la formazione locale. Dunque, insomma, immagino un doppio piacere ospitare questo calcio speciale rappresentato da quarta categoria. Innanzitutto, saluto, noi siamo abituati in questo centro sportivo, sono abituato in questi anni ad avere sempre degli eventi importanti grazie alla federazione che ci sta vicino. Abbiamo avuto delle finali di campionati femminili e quindi per noi è sempre un grande piacere. In questa occasione questi ragazzi hanno portato una ventata di sollievo, di gioia, di serenità e quindi io mi aspo ovviamente che per il prossimo anno la federazione ci tenga in considerazione. Tra l'altro ci sarà, a proposito di calcio femminile, un impegno proprio a brevissimo, no? Sì, esatto. Con questo spareggio? Sì, esatto. Penso domenica. Esatto. C'è questo spareggio che noi lo attendiamo, ci stiamo già organizzando e siamo preparati per questo qua anche per noi. Ripeto, questi eventi fanno crescere il nostro paese, il nostro centro sportivo. Grazie. Grazie.